Selezionato l'oggetto porta, attraverso le maniglie di color verde è possibile riposizionarla, mentre attraverso le maniglie di color blu è possibile ridimensionarla, mantenendo ferma la posizione dell'altra maniglia. Nel 3D, le maniglie presenti sull'oggetto porta consentono di riposizionare e ridimensionare la porta, questo sia in pianta che in altezza. Le dimensioni della porta possono essere definite anche attraverso le proprietà presenti nell'apposito toolbox. Abbiamo la larghezza e l'altezza e la distanza laterale. Grazie.